Ho fatto tardi, pasta velocissima a modo mio. Olio in padella, cipollina fritata, fai rosolare pochi minuti a fiamma bassa, aggiungi i pomodorini secchi sott'olio, sgombro sott'olio, 2 minuti e aggiungi i pomodoro a cubetti. Copri e fai cuocere 10 minuti a fiamma media. Nel frattempo fai cuocere gli spaghetti, prezzemolo tritato, sale, la pasta è cotta, la aggiungiamo al condimento. Pasta pronta! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!